Raga c'è lei che mi sta aspettando perché deve posizionare il telefono, però non riesce a trovare il posto, vediamo Le tattiche di Aurora Baruto Quanto è concentrata Bravissima amore Non ancora Comunque con la cuffia ci sta benissimo Ok, è riuscito a posizionarlo, adesso facciamo un video Sperando che non cada il telefono Vai, vai arrivo Ok, ha cambiato posizione e ha messo il telefono di là Adesso facciamo il video Arrivo Oggi è l'ultimo giorno qua Siamo presi qualcosa da bere e niente, tra poco partiamo Bimba Ammo, fammi vedere un balletto Tu, ta, caliente Tu, raba, manettino, manettino Brava Grazie Ma io non ho capito il video Non lo devi capire Amore Sei incazzata? Sei incazzata? Non mi parli più? Ah pure Va bene Va bene Tu non mi hai accompagnato a mangiare mezz'ora fa Non è vero Giura Allora noi vogliamo guardarci un film Però alla fine lei ha cambiato idea Noi E adesso non sappiamo che fare Comunque voi consigliateci dei film che Allora ora facciamo un gioco Allora praticamente noi adesso dobbiamo dire una parola e vediamo se la diciamo uguale Ok? Ok 3, 2, 1, seria 3, 2, 1, casa Ok ok 3, 2, 1, lei Certo E allora però 16 soggetti finisci lì no? Allora ti propongo il gioco di ieri che abbiamo fatto in macchina Te lo ricordi? Sì Dobbiamo dire una parola e vediamo se sarà uguale Ok? Al mio 3 Sì 1, 2, 3 Alberi Oh Ci siamo andati vicini Riproviamo 3, 2, 1 Pinchina Ma mi spieghi il collegamento? Non c'è E infatti 1, 2, 3 Strada 1, 2, 3 Palo Sassi 1, 2, 3 Erba Ma dai Raga non ce la faremo mai Non è vero Basta non ce la faremo mai Auri faccio vedere la tua mossa con le bacchette Oddio che bimbo Che bello Bellissimo Ragazzi io è Auri Abbiamo preso un botto di roba E non sappiamo se riusciremo a finirlo Cosa ne pensi? Io non so vero mai Manco io Sto scoppiando raga Mi manca questo Questo e quello Aiuto Grazie a tutti